Allora, bendiamo David. Io lo so di stare a coglionare. No, è qua. Aspetta. Dammi il telefono. Ti metti in ginocchio. Dai, mettete in ginocchio. E mettete con l'indice in avanti. Guardito così. Non ti metti in ginocchio. Non ti metti in ginocchio. Che schifo. Gli hai capito al culo. No, aveva fatto qualcosa. Che schifo. Che schifo. No, no, no. Hai rimasto così qua. Che schifo. Con sto dito. Che schifo. No, che immagini che stavo. Ho durato. Ho durato. Cosi tra l'indice in eu. È rimasto così. Ha rimasto così. È rimasto così. Ho durato. A me ne pensi qualcosa. No, no! Grazie a tutti.